I rossazzurri di Dario Marcolin sono tornati alla vittoria quasi due mesi dopo il successo col Perugia. La sfida con l'Avellino, benché sulla carta fosse molto complicata, ha ridato un Catania non bello ma vincente. Sul piano del gioco bisogna migliorare, ma serviva il cuore ed i punti e sono arrivati entrambi. Segno più per Pietro Terracciano, chiamato a sostituire Gillet. Il portiere campano ha abbassato la Sara Cinesca in almeno tre occasioni, proprio contro la sua ex squadra. Dice di no a Darini, di piede nel primo tempo, a Schiavone e Castaldo nella ripresa. Guida bene i compagni e trasmette sicurezza. Positiva anche la prestazione di Ciro Capuano. Subbissiato di critiche nelle ultime gare, il difensore napoletano è entrato alla mezz'ora al posto dell'infortunato Sauro. Con grinta e coraggio, il rosso-azzurro ha messo la museruola a Castaldo e guidato la difesa in trincea nei minuti finali. Segno più anche per Emanuele Calaiò. Un rigore procurato e trasformato è tanta sostanza. In queste gare viene fuori l'esperienza di un ultra trentenne che ha ancora fame da vendere. La fascia di capitano lo esalta. Nel finale affronta da solo l'intera difesa campana. Segno meno per Mazzotta. Il terzino palermitano non sembra quello delle ultime uscite. Spinge meno e commette qualche errore di troppo. A fine gara Marco Lin ammetterà però che il ragazzo aveva un problema fisico e sarebbe dovuto uscire. Prova non positiva neanche per Rinaudo. L'argentino mette quantità lì in mezzo ma pecca nella fase di costruzione. Lascia scoperta la posizione in un paio di pericolose occasioni. Segno meno anche per Rosina. Dal numero 10 Etneo ci si attende sempre tanto ma da qualche partita non riesce ad incidere come vorrebbe. Nel finale ha due palloni per chiudere il match. Uno lo spreca. Nell'altro trova un giallo per simulazione che gli costerà Varese un turno di riposo che potrebbe anche giovargli.